Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2 strada statale 106 a merito Porto Salvo, frutte e verdura 99 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi. Detersivo lavatrice sole 130 misurini 9,90 euro, bibite, fanta, sprite e coca cola 50 centesimi, ammorbidente monamur, felce azzurra 1,99 euro, biscotti molino bianco 1,39 euro, macinato scelto di bovino adulto 5,90 euro al chilo, prosciutto cotto 69 centesimi, latte sole 59 centesimi, acce lavatrice 69 lavaggi 5,79 euro, pasta barilla 79 centesimi, acqua levissima litri 2x6 1,99 euro, sicanino zappalà grammi 262 1,49 euro. Spaccio alimentare in via degli Etruschi 2 strada statale 106 melito Porto Salvo.